La Piana di Sibari al centro dell'agenda politica di Katia e Anni, candidata al Consiglio regionale della Calabria, circoscrizione nord nella lista Coraggio Italia, con Roberto Chiuto, presidente, che ha incontrato a Sibari cittadini e simpatizzanti. Presenti l'onorevole Gianluca Rospi e il candidato consigliere regionale Alfredo Iorio. Per noi la Piana di Sibari è una piana molto importante, occorre sempre più investire in agricoltura, l'agricoltura è il 30% del PIL italiano e per questo noi abbiamo una serie di idee da poter sviluppare qui a Sibari. Una per esempio è il desalinizzatore da poter inserire al posto della rudere della centrale elettrica di Rossano, il desalinizzatore potrebbe essere utile per dare acqua a questa piana e poter rilanciare il PIL agricolo della Piana di Sibari. Altra cosa importante è rivalutare l'archeologia, gli scavi archeologici, la cultura, il turismo che per tanti anni è stato abbandonato in questo territorio. Abbiamo una squadra forte, compatta di candidati che stanno lavorando sul territorio e sono convinto che avremo anche un ottimo risultato. Anch'io voglio parlare di agricoltura perché dopo aver visitato le aziende della Piana ho riscontrato i problemi che già ho più volte esposto sulla stampa, sui social e quant'altro. Quindi è anche un senso da parte mia di solidarietà agli agricoltori di Sibari e soprattutto perché ho sempre parlato dall'inizio di salute e lavoro, anche solidarietà nei confronti dei 200 dipendenti che purtroppo hanno perso il posto di lavoro nella Piana di Sibari.